La stazione praticamente dove possiamo vedere sia la temperatura, le condizioni atmosferiche, la temperatura interna, la temperatura esterna perché è collegata con questa unità esterna che io ho messo praticamente ecco qua fuori dalla finestra. Questi comunicano e gli da praticamente i dati che poi registra, utile anche come sveglia, una cosa veramente utile in una casa.